Non si sono mai svolti né si sono mai tenute le elezioni nel momento in cui sono stati ripetiti esclusivamente dei registri attestanti finta presenza all'interno dei locali aziendali. Organizzava corsi di formazione fittizi che nella realtà infatti non si sono mai svolti con l'unico obiettivo di intascare finanziamenti a scoprire di interrompere questo raggiro ai danni dello Stato da oltre 100.000 euro le fiamme gialle e aretine. Ne guai è così finito un professionista, un ingegnere attivo nell'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale e tre amministratori di altre tante aziende. Parliamo di tre aziende operanti nel Valdarno, operanti nel settore dei bar, arredamento e calzaturiero, mentre il libero professionista è un ingegnere. Le indagini hanno riguardato un periodo compreso tra il 2015 e il 2016 nel corso del quale sarebbero stati organizzati cinque corsi di formazione professionali mediante risorse pubbliche e statali. Questi contributi erogati tramite il Fondo Forte, che è un sistema che va ad aiutare imprese nel terziario al fine di riconvertire la professionalità dei propri lavoratori, era organizzato in modo tale da tenere finti corsi di aggiornamento, dove venivano invitati a partecipare il personale di tre aziende del Valdarno, personale che però, sentito in atti, non ha mai confermato di aver partecipato a questi corsi di aggiornamento, però a fronte dei quali sono stati concessi i contributi per circa 300.000 euro. L'indagine si è conclusa con la denuncia sia alla Procura ordinaria che a quella contabile di quattro persone per truffa ai danni dello Stato. È stato inoltre segnalato anche il recupero di indebiti finanziamenti per oltre 100.000 euro. Abbiamo fatto delle segnalazioni alla Procura per truffa ai danni dello Stato, sia nei confronti del docente che nei confronti dei titolari dell'azienda e alla Corte dei Conti per il recupero dei danni rariali.